fammi ripicchiare questa scena fammi ripicchiare questa scena nooo fammi ripicchiare questa scena mi stai dicendo un'altra cosa stai dicendo tuo figlio capimici è buono tuo figlio tuo figlio è buono eh viene buono in primo piano tu stai facendo un primo piano tu stai facendo un primo piano guido tu stai facendo un primo piano la battuta della parola la battuta della parola guido poi il portatore della cosa guido guido ma non mi vedi è recuperato guarda qua e tu guarda qua fai facciammi ripasca guarda vai fammi ripasca guarda qua sto pronto fammi ripasca ora guarda qua tu hai paura è guaglione è guaglione è guaglione noi donne che dobbiamo dire a te e tu non hai la cormora ecco e beh lo faccio buono e avvio tu agli tante proprio tu agli tanti mio figlio ha guardato un altro anno faccio buono vorrei che mi ha la cormora per me ci sono dovuti però mi chiamo amore Eh, perché devo un po' pianto, non lo chiamiamo amore. Eh, non so, io non sapevo cosa. Ciao! Ciao! Non sapevo cosa. Ah, io non sapevo cosa. Quanto vengono qui a San Carmelo? 16. Quanto fu il giro? Sto girando la vita, ma giro pure chi sta trovando. Domenico sta, domenico. Eh, stanno complottando di sposi qui. E' un altro video salvato. Stanno...